Buona serata dalla redazione di Florence Multimedia, ancora Mauro Ciutini in studio, sono 7 i chilometri di coda in A1 alla variante di Valico dopo un incidente tra Badia e l'allacciamento con l'A1. Fare attenzione in A11, un veicolo in avaria tra Prato Ovest e Pistoia, la direzione quella per Pisa. Una perdita di carico segnalata sulla Firenze-Pisa-Livorno allo svincolo Ginestra-Fiorentina in uscita provenendo da Livorno. Ancora nebbia segnalata a banchina 15 tra Berceto e Pontremoli. E c'è traffico intenso sui viali a Firenze in entrata ed in uscita dalla città. Per il momento è tutto, Mauro Ciutini Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi.